Resta in cella in Istria il taikun croato Tomislav Orvantinjic, condannato per aver provocato la morte nell'agosto del 2011 dei coniugi padovani Francesco Salpietro e Marinelda Patella. Lo farà nella casa circondariale di Altura, lo ha stabilito il direttore dell'ufficio carcerario centrale croato accogliendo l'istanza della direzione del carcere del penitenziario dove l'uomo ha scontato due anni e cinque mesi. La condanna di Orvantinjic è di quattro anni e dieci mesi. L'imprenditore croato però ha trascorso poco tempo dietro le sbarre, per lo più è stato detenuto nell'ospedale carcerario e in un istituto di cura per la convalescenza dopo un'operazione al femore. Orvantinjic è stato condannato in via definitiva nel dicembre del 2019 dopo un'odissea giudiziaria durata otto anni e fatta di tre processi. Grazie a tutti.